Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano d'Arvine 15 a Tripanda. Acquisite testimonianze e video, i carabinieri hanno messo nel mirino la banda della piramide, il quartetto di ladri acrobati che nelle notti scorse ha messo a segno una serie di colpi nelle villette situate tra starse di sommonte e capriglia. Furti perpetrati nella maggior parte dei casi con le vittime dentro casa, con i ladri che incappucciati in tute e con gli occhiali sovrapponendosi l'uno sull'altro, hanno scalato le pareti degli edifici fino a raggiungere il balcone da dove sono entrati per compiere il saccheggio. Gli investigatori seguono la pista che porta una banda di malviventi dell'est specializzati nei furti in appartamento. Gli abitanti della zona meta dei raid si dicono preoccupanti nonostante molti di loro vivono blindati nelle villette. L'incubo della banda della piramide non lascia dormire, sono i tranquilli. Il comune di Sumonte, come detto già ieri nel servizio, precisa che il territorio di sua competenza è sufficientemente illuminato e che l'ente, nelle contate del rischio, ha installato anche le telecamere di video sorveglianza. Evitare facili allarmismi, questo l'invito del comune. Sumonte, precisa l'ente, secondo i dati in possesso, alle forze dell'ordine, per quanto riguarda il fenomeno dei furti negli appartamenti è al di sotto della media rispetto a tanti altri comuni irpini. Noi, per dovere diritto di cronaca, siamo tornati stamane nella zona tra starse di Sumonte e Capriglia per raccogliere la voce degli abitanti. Tra loro c'è chi ha subito un furto e è stato testimone dei raid. Stare tra la gente dal fronte è stata sempre la nostra mission. Da Gesualdo a Contrada Archia, da Avellino, abbiamo registrato sul campo l'allarme furti in Irpinia, dedicando al fenomeno anche un'intera trasmissione in diretta andata in onda solo dieci giorni fa dal capoluogo. Siamo sullo stato di allerta tutte le sere, per fortuna qualcuno di noi ha le telecamere, ci sentiamo. Cerchiamo di tenere la situazione sotto controllo, di chiamare i carabinieri quando vediamo qualcosa di strano. Questo sicuramente. Ma è stata vittima di furti? No, però sono arrivati fino intorno a casa, insomma. Siamo riusciti ad accorgerci prima che entrassero. Con le telecamere? Sì, sì, con le telecamere intorno a casa. Questo fa parte di quale comune? Starse è comune di Sumonte. Voi vi siete blindati dentro? Sì, sì, sì. La sera ci si blinda in casa, si accendono i fari grandi e si tiene la situazione sotto controllo. Comune questi furti, spesso è capitato che non vi era l'allarme inserito, sono case singole con due piani e più di una persona ha avuto appunto la visita di questi ladri con loro dentro. La starse di Sumonte ha la periferia di Capriglia Erpina, sulla stessa strada, anche se le competenze sono diverse. Eppure ha avuto un furto? Uno, uno solo. Quanti ne ha avuti? Sei. Quattro sono entrati dentro e poi hanno tentato la porta del garage giù. L'hanno aperta tanta, però non hanno entrato. Lei ha preso comunque delle contromisure, si è blindato dentro, videosorveglianza? Sono blindato. Sono carcerato a casa. Io sono carcerato a casa mia. Ho messo l'inferriata adesso. Anche la signora che abita alla periferia di Capriglia Erpina ha subito un furto. I ladri sono entrati nel suo appartamento mentre era in casa. Stiamo dentro, stiamo piani sotto, io e mio marito. Dopo così, quando lui mi ha telefonato, sono andata sopra e ho trovato già tutto. Non si era accorta di nulla che sopra c'erano i ladri? No, non abbiamo sentito niente, niente. Cosa hanno rubato? E hanno rubato l'oro, tutto.